Con Francesco Sidero, l'allenatore della Juniors delle città di Rossano, questo campionato si è concluso, c'è entusiasmo con i giocatori che escono per fare allenamento, grande concentrazione ma anche un bello spirito di gruppo qui in questa squadra che ha concluso il campionato Juniors ma ora si confronta contro la prima squadra per continuare queste sedute di allenamento. Come vede questo finale di stagione di questa importante squadra il città di Rossano di Pagino? Quello che ti posso dire è che noi stiamo facendo il tutto per vincere questo campionato, Cassano permettendo, noi non l'abbiamo nascosto dall'inizio e non lo nascondiamo di certo oggi, noi cerchiamo di vincere questo campionato e di finire nel migliore modo possibile. Certamente ci sono state tante belle partite, in alcune è andato anche in panchina sostituendo Pagino che quest'anno non ha avuto un rapporto eccezionale con gli arbitri, c'è un momento nel quale ha avuto maggiore soddisfazione sedendo sulla panchina della prima squadra? Ma è stato sabato a Schiavonea dove ho visto la squadra giocare da grande squadra ma a campo permettendo perché là il campo è un campo dove si può mettere la palla per terra, si può giocare dignitosamente e là è stata una bella soddisfazione e là sono convinto che se noi avevamo un campo di quella maniera lì potevamo fare di più. Abbiamo letto le dichiarazioni del vicepresidente De Simone che ha ringraziato lo Schiavonea per l'ospitalità, nonostante tutto e nonostante l'episodio è stata una bella giornata di sport, in quella mezz'oretta che si è giocato ma sia prima che dopo grande cordialità, credo che sia anche questo giusto sottolinearlo. Come no, come no, ma come diceva pure il presidente Celi là sabato, alla fine siamo tutti amici, questo è stato e questo deve essere il calcio senza ombra di dubbio. Domenica arriva alla Geppino Netti, una squadra che proprio allo Stefano Rizzo contro la Rossanese per 60 minuti era in vantaggio, poi è crollata alla fine, un avversario da non sottovalutare. Io ti dico la verità e non lo nego, nella mia piccola esperienza calcistica sono queste le squadre che mi fanno paura, però noi come tu ben sai stiamo qua 24 su 24 per far sì che il risultato viene a nostro favore. Grazie in bocca al lupo per il proseguo. Grazie a te e a tutti.